Eccoci qua, vedo già subito che Cristina Coppola ha indossato, ma stai benissimo, proprio una diva degli anni 40, credo, spero, non so. Allora abbiamo il piacere di parlare di cappelli perché fino al 30 novembre al Museo del Bijou di Casal Maggiore è in corso una mostra intitolata ovviamente Tanto di Cappello e ne parliamo sempre con l'assessore alla cultura del Comune di Casal Maggiore, Pamela Carena, e con Paolo Zanni che è il presidente dell'Associazione Amici del Bijou, questo museo che è nato qualche anno fa e che ha modo poi di proporre anche esposizioni che vanno ad arricchire. Io intanto vado avanti a fare la modella vivente. Tu fai la modella, ti diverte questa cosa, abbiamo in effetti qui una serie di cappelli. Io credo però che ci sia Simone Bacchetta, mi confermate? No, non ancora, allora aspettiamo ancora qualche istante. Allora Zanni, abbiamo modo di... c'è Bacchetta? Allora andiamo a vedere un po' con Simone qual è la situazione. Prima abbiamo fatto il collegamento con via Brescia dove via chiusa da questa mattina perché è partito il cantiere per il sottopasso, ma in realtà tutto il traffico è stato dirottato verso via Persico dove da qualche giorno è invece aperto il nuovo sottopasso e quindi tutto il traffico adesso può utilizzare il nuovo sottopasso che mi pare di vedere dalle immagini funziona egregiamente. Dico bene Bacchetta? Certo, certo Giovanni, naturalmente piove anche di qua, scherzi a parte. Mi sono spostato dunque in via Persico dove mercoledì scorso dopo 14 mesi di cantiere è stato inaugurato il sottopasso ferroviario. Vedete adesso il traffico, sono naturalmente l'una, l'una e un quarto quindi diciamo così l'ora di punta per quanto il traffico a Cremona anche nelle ore di punta non sia particolarmente sostenuto. Fatto sta che comunque il traffico è scorrevole in via Persico lungo il sottopasso nuovo e come dicevi tu gran parte del traffico da via Brescia da questa mattina sarà ovviamente dirottato e quindi vedremo nei prossimi giorni come sarà il traffico qua in via Persico che per il momento è scorrevole. Dicevamo 14 mesi di cantiere, un'inaugurazione mercoledì scorso alla presenza di addirittura tre tra sindaci ed ex sindaci, c'era Galimberti, c'era Pelli, Perri e c'era Corada largo, scusate, 7 metri e mezzo il sottopasso prevede anche, e mi trovo proprio in questo momento qui una corsia anche ciclopedonale di 2 metri e mezzo. Quindi da via Persico se non avete altre domande è tutto. Grazie, grazie Simone, buon lavoro. Salutiamo allora, abbiamo visto funziona tutto e la cosa ci fa piacere però contro questa pioggia, Cristina, quel cappellino lì secondo me poco potrebbe fare, non ti ripara più di tanto. Però è splendido. È bellissimo. Questo è anni? Forse sarà anni 30. Anni 30? Non lo so, diteci cosa ne pensate, scriveteci, telefonateci. Avete mai avuto cappelli come quelli che i nostri amici del Museo del Bijou ci hanno portato questa mattina. Allora, ribadiamo, copricapi e bijou di donne del Novecento in mostra fino al 30 novembre, copricapi femminili indossati fra gli anni 20 e 70 del secolo scorso, una vera e propria passerella. Zanni, che cosa ci avete portato questa mattina? Abbiamo portato una serie di cappelli che sono in parte esposti nella mostra, in parte sono un fondo che abbiamo come Museo del Bijou perché una concittadina casalanska ci ha lasciato tutta la raccolta dei suoi cappelli perché, mi permetto di dire questo, che una volta per le donne era un mestiere essere eleganti. Quindi dovevano avere una grossa fornitura di accessori, tipo il cappello, perché io ricordo perfettamente questa signorina che peraltro è scomparsa poco tempo fa, alla venerante età di quasi 90 anni. Io me la ricordo passeggiare per Casal Maggiore e mai una volta averla vista con lo stesso cappello. Quindi evidentemente ne aveva una quantità esagerata che ha costituito il fondo col quale poi dopo abbiamo fatto la mostra. L'altra cosa molto interessante che si vede anche inquadrata sono quegli spilloni da cappello. Io sono convinto che se facciamo vedere a una signorina dei giorni d'oggi quell'oggetto non saprebbe esattamente cosa potrebbe essere. In realtà erano appunto gli spilloni Anche un po' pericolosi, impari di capire. Ero armi improprio. Ecco, altro che spray al peperoncino, no? Uno che estraeva lo spillone dal cappello. Servivano appunto a fissare il cappello. E di queste ne abbiamo una raccolta come Museo del Bijou veramente notevole. Sono stati restaurati, infatti vedete che sono molto sbarlucicanti, come si dice, però nella tradizione dell'oromatto va benissimo anche questo. Grazie, un attimo di pausa adesso perché è pronta Federica Bandirali per darci qualche anticipazione relativa al telegiornale che andrà in onda come di consueto alle 13.30. A te Federica. Buongiorno Cristina, buongiorno Giovanni, buongiorno ai vostri ospiti. 13.30 edizione del nostro telegiornale parleremo ancora chiaramente dell'apertura del maxicantiere di Via Brescia iniziata con la pioggia tra caos e disagi per gli automobilisti. Ma non solo perché si sta rovinando un'opera d'arte preziosissima cremonese ed è precisamente l'armadio intarsiato del platina che si trova dentro il Museo Civico, un bene che sta letteralmente cadendo a pezzi. Vi spiegheremo poi il motivo. E poi 101 anni per Mario Coppetti, grande artista e grande detentore della storia di Cremona, proprio nella sua memoria, lo ricorderemo a nostro modo con un omaggio che ripercorre tutta la sua carriera. Poi lunedì ovviamente c'è la pagina sportiva con la crisi nera della Cremonese dopo la sconfitta in casa contro il Monza, male anche la Pergolettese. Bene invece Vanoli e Pomì. Questo e molto altro alle 13.30 durante il nostro telegiornale. A voi la linea. Grazie, grazie a Federica. Intanto Cristina è impegnatissima e ti diverti. Mi diverto moltissimo, mi piacciono davanti. Ecco però Cristina in realtà, insomma i copricapi adesso per donne e uomini direi che non vanno più, tu li utilizzi, no? Non credo. Poco, anche perché io non sono freddolosa quindi anche d'inverno non sono... E' l'eleganza del cappello. L'eleganza. Più che l'uso. Assessore Carena, beate le nuove gioventù, le nuove generazioni, lei poi è giovanissima, che non devono più insomma avere questo oggetto che in qualche modo potrebbe anche causare, no? In picci, dove il cappello, poi uno lo perde, vola via, il vento, no? No, no, è più comodo adesso senza... o lei preferirebbe, tornerebbe al cappello? Tornerei al cappello, in tutta sincerità, perché effettivamente al di là del motivo per cui è nato, che era di protezione del capo, poi è diventato davvero, come diceva Paolo Zani, un vezzo che ha anche delle valenze, se vogliamo, culturali, simboliche, diciamo che anche da come uno portava il cappello si poteva pensare da che, diciamo, ceto sociale potesse venire, insomma, c'era distinzione, è andato oltre, diciamo, la storia del cappello. C'era una simbologia che andava oltre all'eleganza e alla fattura. Se pensiamo all'Inghilterra, i cappelli portati dalle damme inglesi ancora oggi, ancora oggi. Anche gli uomini, no? Fino a non tantissimi anni fa, se posso chiedere a lei. Dunque, a parte che a me il cappello piace portarlo, non per motivi del proteggermi dal freddo, perché grazie a Dio sono abbastanza fornito di piluria, però secondo me il cappello effettivamente dà uno stile. Cioè anche un uomo col cappello, a mio avviso, assume una personalità maggiore rispetto a quella che... Tutti i cappellai in questo momento? Ola, ola dei cappellai. Non ci stanno sponsorizzando, è questa per l'Italia. No, ecco, l'onor del vero, devo dire... Potrebbe essere un'idea. A onor del vero, devo dire che la mostra che è a Casal Maggiore fino al 30 di novembre, in parte è un fondo di due signori di Vigevano, che mi pare che si chiama la Camellia, se non va derrato, mi confondo sempre con il nome dei fiori. La Camellia che ci ha appunto donato soprattutto i capelli più antichi. Quindi abbiamo dei capelli anni venti e loro ce li hanno dati appunto per allestire questa splendida mostra. Intanto stiamo vedendo un po' di immagini. Sì, nella mostra era accompagnata anche da oggetti ovviamente dell'epoca, vabbè lì vediamo gli occhiali oltre agli spilloni, le spille. Modello Chanel. Un'altra cosa interessantissima era che la mostra, potrete anche vedere delle immagini, delle fotografie di donne incorniciate, di visi di donne incorniciate nei loro cappelli in una Casal Maggiore del Novecento. Quindi le abbiamo prese dall'archivio della Biblioteca Mortare, eccoli là di dietro. Infatti c'è stata una cosa curiosa di quella visitatrice della mostra che ha riconosciuto in una delle foto una sua parente. Infatti vorremmo sottolineare il valore di questo museo, del museo del Bijou, perché ha un valore intrinseco che è quello che fa vedere gli oggetti. Poi ha un valore storico per la popolazione di Casal Maggiore. La cosa che mi commuove sempre, e tutte le volte che lo facciamo, è che qualcuno riconosce un qualche suo parente. Qui uno è venuto e ha detto, quella è mia mamma. Sì, è mia mamma, è una fotografia che io ho in casa, eccetera, eccetera. E ancora più commovente è quella del manifesto, il simbolo, che abbiamo trovato, una splendida fotografia, anni 50, di una donna, non so se riusciamo a vederla, adesso bisognava andarla a trovare, in cui è proprio alla maschietto, con un cappello da uomo, una giacca da uomo, che scende da una macchina. Insomma c'era chi usava. Perché Poveretta tra l'altro ha fatto una verifica, è proprio morta nei primi anni degli anni 50, quindi l'abbiamo adattato anche alla fotografia. E' arrivata una signora quasi in lacrime, estremamente commossa, e dice, ma quella è mia zia, ma dove l'avete trovata? Questo per dire perché riscopriamo col Museo del Bijou le nostre radici, anche perché bisogna ricordare che a Casal Maggiore per cent'anni hanno prodotto bisiotteria. Ecco, e questo infatti volevo arrivare, perché è ok alla mostra del cappello specifica che andrà avanti fino a fine mese, però insomma è anche l'occasione per ricordare il Museo del Bijou, che appunto è a Casal Maggiore, proprio perché a Casal Maggiore c'è stata fin dall'Ottocento una grande tradizione di produzione del Bijou, no? Allora, velocissimamente, perché su questa roba qui potresti stare qui anche due giorni, allora nasce dall'idea di un codonino, o codoniotto che dir si voglia, uno che viene giù da codonio, che fa il militare a Casal Maggiore, si sposa, inventa una nuova tecnica per fare la placatura dell'oro, da lì, da questo piccolo laboratorio, arriviamo negli anni 26-27 ad avere 600 persone impiegate, fisse nell'azienda, oltre a tutto il lavoro a domicilio. Hanno prodotto milioni di pezzi, cioè non si sa, perché hanno invaso il mondo, infatti abbiamo la testimonianza di Bijou che è stato utilizzato in tutta l'area del Mediterraneo, diciamo musulmana, quindi di religione islamica, abbiamo delle medaglie che sono andate in Argentina, abbiamo medaglie religiose di tutti i santuari del mondo, oltre a tutti gli ornamenti, tipo le spille, piuttosto che il fermacappello, piuttosto che i bracciali, sono, onestamente ve lo dico, nemmeno io so quanti sono i pezzi, perché li valutiamo dai 24 mila ai 30 mila pezzi, perché nessuno ha avuto, e sono tutti pezzi unici, perché sono un campionario. Cioè noi, questa è stata la nostra fortuna, che siamo riusciti a recuperare il campionario, non tutto, gran parte del campionario dell'azienda, e l'abbiamo ripulito, l'abbiamo rimesso in ordine, c'è stata una grossissima sensibilità da parte delle amministrazioni comunali, perché è stata una bella impresa, adesso ho detto così, ci sono voluti circa 20 anni a rimettere il sesto su tutto. Però la cosa che, ripeto, a me interessa molto, in questo qui sono un po' l'Agostino Melega di Casal Maggiore, che effettivamente è un museo molto radicato sul territorio, la gente ancora oggi, quando trova qualcosa, ce lo dà. L'ultima acquisizione che abbiamo fatto, che è una cosa meravigliosa, non c'entra niente col bijou, ma è stato fatto a Casal Maggiore, è un prototipo di radioportatile degli anni 50. È un gioiello, pur non essendo un bijou. Ecco, tra l'altro, con l'arrivo degli anni 70, l'industria si è completamente riconvertita, quindi se non ci fosse stata la meritoria azione degli amici del bijou, molti di questi pezzi, diciamo, gran parte di questa tradizione si sarebbe persa. Sì, qui la storia è molto, molto semplice. A un certo momento la proprietà della fabbrica, nel 1982, questo ricordo che l'ha data, decide di disfarsi del campionario e chiama un rigatiere di Parma per dargli tutto, la condizione che gli portasse via tutto. Siamo stati informati da due operai che lavoravano in fabbrica di questa faccenda e quindi è intervenuto immediatamente il sindaco di allora, Antonio Gardani, e abbiamo bloccato l'operazione. Però devo dire, non è qui, devo essere molto onesto, allora non sapevamo assolutamente cosa fare, perché noi abbiamo portato a casa due camionati di roba. Non avevate la consapevolezza che in realtà si sarebbe potuto trasformare. Diciamo che il là, quello che ci ha fatto partire, che soprattutto ci ha legittimato, è stato un professore del Politecnico di Milano che ha visionato il materiale, ovviamente lui ci ha detto, fate questo, fate questo, fate questo, fate, eh? L'abbiamo fatto noi, fisicamente, lui ci ha solo dato l'idea. Però diciamo, ci ha legittimato e ci ha dato la partenza per fare questo capolavoro che è sotto gli occhi di tutti. Complimenti, avete avuto anche la lungimiranza per capire appunto che ci poteva essere una svolta che poteva valorizzare la storia anche di Casal Maggiore. Grazie ai nostri ospiti, grazie all'assessore Pamela Carina e a Paolo Zani, presidente dell'Associazione Amici del Bijou, ricordiamo il Museo del Bijou a Casal Maggiore e fino al 30 novembre l'esposizione dedicata ai cappelli. Non ne può dire. Io questo lo indosso perché... Se posso fare congratulazioni a Cristina? Sì. Omen, omen, coppola. Bella. Chiediamo con questa battuta. Esatto, io lo indosso così vi salutiamo e vi diamo appuntamento naturalmente a domani a mezzogiorno. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.